Dovete sapere che la Pfizer ha comunicato a noi medici che la scadenza dei vaccini è stata prorogata. Quella data che voi potete leggere su tutte le confezioni di farmaci è stata spostata in avanti. E la Pfizer ce lo comunica, come fosse prassi abituale, con una lettera aperta dove dice, cito testualmente, è stato approvato nell'Unione Europea un aggiornamento del periodo di validità. Ora, tante sono le cose strane. La prima è che gli organi di controllo, l'EMA in testa, l'Agenzia Europea, non ha battuto ciglio ed ha preso per buona una prassi che definire inusuale è un eufemismo. La seconda cosa strana è che, specificando in Europa, si esclude automaticamente che negli altri mercati, in America, ad esempio, sia stata prolungata quella data di scadenza. Cioè, stesso prodotto, stessi lotti, ma diverse date di scadenza? In un paese ha una validità più lunga e in un'altra meno? E perché? Ma nessun chiarimento più approfondito ci è stato dato. La lettera era accompagnata da una tabella con lotti e relative scadenze vecchie e nuove, da cui si evince che la validità dei vaccini in scadenza o quelli già scaduti viene prolungata dai 9 ai 12 mesi, non esattamente un'inezia. Ora, è certamente una cosa inusuale spostare la validità di un farmaco e diventa fortemente sospetto che lo si faccia quando, in giacenza, ci sono in Europa centinaia di milioni di dosi. Solo nel nostro paese, pensate, ce ne sono oltre 140 milioni. Questa cifra enorme è stata fornita 4 mesi fa dagli organi di informazione, ma non è mai stata smentita dall'allora Ministro Speranza, quindi la prendiamo come assolutamente buona. Ministro Speranza che poi ha lasciato come sgradita eredità a Schillaci i vaccini inutilizzati. Ora, sappiamo bene che è in atto una guerra vera e propria fra chi accetta to cure qualsiasi cosa riguardi il vaccino con un atteggiamento fideistico e chi invece esprime nei confronti del vaccino uno scetticismo più o meno marcato. Io la definizione Novax la lascio ad un manipolo ristretto di faci norosi. Ma in questa vicenda, sforzandosi di essere il più obiettivi possibili e lontani da posizioni precostituite, è assolutamente impossibile non fare cattivi pensieri e dire che questo cambio di data di scadenza puzzi troppo. È impossibile non pensarlo così come è impossibile giustificarlo, così come è impossibile...